Andata! Vai gliela a vedere perchè non la capiscono eh? Eh ma va? Metti giù un paletto! Cioè riesce a confondermi anche se stanno a piedi figaro! Piano piano! Pizzino ad inizio per il sasso! Sì dai ci sta! Caccia! Esatto! Al contrario mi sa che tu stai! Al contrario va! C'è quel passaggio qua! Bravo! Oh che si è! Piano eh! Piano! 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 Mi state facendo girare la testa! Non capisco più un cazzo! Eh non so com'è! La provo! Piano! 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 allora il peso lì la è prima ti ha ciulato il davanti adesso ha ciulato il dietro devi sfruttare quella radice lì perché se no ti frega cioè devi stare su sia col davanti che col dietro su quella radicina lì destra gira su bravo e da lì ti vedo radici in alto e poi scendi piano nooo ah Ahhhh! Cioè solo te riesce a non fare la radice Cioè lui lo fa senza la radice Scende, scende, va dietro Non è bravo! Io non lo so Scende, scende, vai! Vai! Così 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 Così